Musica Ben trovati telespettatori di TVS e l'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di sabato 25. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che avremo fenomeni di stabilità diffusa soprattutto al centro-sud, mentre il nord Italia godrà di tempo più stabile e soleggiato. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino le condizioni meteorologiche risulteranno instabili su gran parte del territorio regionale con piogge e rovesci diffusi. Le nevicate interesseranno i monti al di sopra dei 1000-1200 metri di quota. Nel corso del pomeriggio le condizioni meteorologiche vedranno un generale miglioramento su tutto il territorio regionale con i cieli che risulteranno coperti o molto nuvolosi. La ventilazione risulterà intensa dai quadranti settentrionali e i mari risulteranno generalmente mossi o molto mossi, mentre dal punto di vista termico assisteremo ad un generale calo delle temperature. Nel corso della serata le condizioni meteorologiche vedranno un generale miglioramento con i cieli che risulteranno poco nuvolosi o nuvolosi su tutto il territorio. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento. Grazie a tutti.